buongiorno crossfit pistoia anche se come ben potete vedere sono nel salotto di casa mia ma non ci resta che stare a casa io lo faccio fatelo anche voi e insieme proviamo a lavorare su quegli esercizi che comunemente tralasciamo un po perché si pensa che siano meno importanti perché quando ci siamo allenati abbiamo fatto il nostro world quotidiano magari non abbiamo tempo di dedicarci alla mobilità una piccolissima sequenza di movimenti anche oggi per voi e non ditemi che sono difficili perché basta mettersi lì con pazienza e vedrete che riusciranno a tutti allora mi tolgo questa maglia perché mi lega un po nei movimenti in piedi, lounge, tolgo le mani, porto la gamba dietro e vado in down dog adesso sempre con la nostra gamba destra veniamo avanti e poi una bella spinta del piede della gamba dietro la gamba come vedete dovrebbe essere in linea con il busto ora io non riesco a spaccare le mani comunque da qui veniamo avanti posizione del piccione su un bell'arche a destra un bell'arche a sinistra torno di nuovo qui piccione e su di nuovo facciamo tre volte questa è la parte del piede della gamba dietro la gamba è una parte del piede della gamba Questa è l'ultima, quindi porto la lamba avanti, scambio e riparte la sequenza. Piccione, un leggero piegamento che però in realtà in questa posizione viene chiamata la posizione del piccione, vengo su, arch, arch di nuovo, piedo, punto il piede dietro e ristendo. Rientro, arcia sinistra, arcia testa, piego, punto il piede e ristendo. L'ultimo, riappoggio in down dog, lamba avanti, stacco e vengo su. Rientro, arcia testa, piego, punto il piede e ristendo. Rientro, arcia testa. Rientro, arcia testa